Emanano profumo che non vi dico, ma profumo che viene proprio a tenaschi. Stai preparando la riga, non vedi qua? Primo se qua, bello, bello scorciolato. Ma che ho messo? La riga non è larga e russa, credo che vi faccio un video dove vi vedi sto dovevo cogliere. Poi c'è là i papaglionti, seccato, tagliato e fustato, come la riga, certamente poi la riga, poi lo faccio, poco pochi e sali, e appena i pipi, i pipi ma non ho amaro, che c'è con la mano, e questo si può mettere dei bruschetti, della carne, tessasizza, dove si vuole, un bello composto, vuole anche i miei boccaccieri, i miei picciotti, perché un metto dei boccacci, dei boccacci, la Roma resta, resta il bello profumato, ho calcano polette un buon, e questo ora quanto volete, dopo un buon da una bello forte forte, guarda che bello, un buon composto, questo vale la pena, questo potete tenere quanto volete, prodotto dell'associazione Svalantea, ecco qua.